Si è tenuto sabato 25 novembre all'hotel Poseidon di Torre del Greco il primo convegno nazionale della democrazia cristiana. Una sala gremita, quella al quarto piano dell'antica struttura di proprietà degli ex Molini Marzoli, che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni proveniente dalle diverse regioni d'Italia. Modellatore d'eccezione, il presidente Filippo Colantonio, mentre ad aprire i lavori, il saluto del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e di diversi esponenti nazionali e regionali intervenuti per l'occasione. Dalla storia al futuro, questo lo slogan che ha accompagnato l'intera manifestazione, ma anche il mantra che caratterizzerà l'azione politica nazionale e locale della DC nei prossimi mesi in vista di due importanti appuntamenti elettorali, le europee 2024 e le regionali in alcune realtà importanti del Paese. Abbiamo preferito gratificare il nostro territorio perché da qua ha partito la democrazia cristiana. Abbiamo convocato nella nostra città di partenza il primo consiglio nazionale che è un passaggio istituzionale previsto dallo statuto del partito e abbiamo tracciato quella che era, io come segretario, quella che sarà la linea politica per le prossime elezioni. Come ho detto prima ci sono due scadenze importanti. Teniamo le regionali in Sardegna, e in Basilicata e poi avremo le europee. La sarà la prima vera sfida da fare a tutti questi grandi partiti. Non stiamo pensando in grande, ci stiamo misurando con questi grandi della politica. Non sappiamo dove andiamo a finire. Può darsi che molto spesso, come è successo con Davide Congolia, ebbela meglio un piccolo soggetto rispetto ad un gigante. Noi oggi siamo ancora piccoli della politica, ma stiamo cercando di crescere e cresceremo anche grazie al consenso delle persone che sceglieranno di votare il nostro progetto politico. Quali i maggiori punti della sua linea politica? Dove sarà l'orientamento della democrazia cristiana a partire dalle prossime europee? Allora, con le europee noi saremo da soli. Andremo con qualche partito, qualche alleanza di centro, ma non ci iscriveremo né con destra né con sinistra. Vogliamo ricreare il centro. Vediamo cosa risponderanno gli elettori. Ovviamente con questo sistema maggioritario che noi teniamo, che privilegia i due rami del Parlamento, centro-destra e centro-sinistra, noi andremo in difficoltà se non riuscissimo a trovare dei voti. Per questo chiediamo dei consensi. Noi possiamo andare anche da soli. Possiamo fare un'alleanza di centro e la prima cosa da fare è cambiare il sistema elettorale, ritornare al proporzionale secco con una soglia di sbarramento più alta e con i candidati scelti dai cittadini.